Buongiorno a tutti, scusate il ritardo, in realtà pensavamo di metterci molto poco ma poi usciti da quell'evento la notizia ieri di EMA ha bloccato tutto l'attenzione quindi c'è stato un minimo di discussione su quello. Allora io oggi volevo partire rubando tre slide dal professor Manfredi nel senso che il 10 di novembre c'è stata una interessante giornata alla presenza del premio Gentiloni, della ministra Fedeli, di tutti un po' quelli che erano coinvolti su quello che è l'infrastruttura, sistema universitario nazionale così è stata definita proprio dal presidente della CRUI che ha portato la voce della CRUI facendo una presentazione su qual è lo stato dell'università, quando questa si può ritenere con diritto un'università comparabile con un'università europea e quando invece ci sono ancora delle debolezze e dei punti di difficoltà. Sicuramente è un'università europea per quanto riguarda la qualità della didattica e per quanto riguarda la qualità della ricerca, sicuramente è un'università europea, abbiamo concluso come CRUI, per quanto riguarda i criteri con cui in qualche maniera oggi l'università viene valutata, viene finanziata a criteri, sto parlando naturalmente, o viene governata, siamo forse una delle poche pubbliche amministrazioni che ha dei mandati in scadenza con dei tempi fissi e poi però non siamo europei in certi passaggi, non siamo europei per la nostra internazionalizzazione di studenti e facolti, non siamo europei per le difficoltà burocratiche che in qualche maniera impongono le nostre attività amministrative e gestionali, non siamo europei nei nostri numeri, siamo troppo piccoli e forse troppo poco giovani. Questa era un po' la conclusione. Allora sulla base di quella conclusione, quando Gian Antonio Magnani mi ha invitato a parlare qui oggi, mi sono fatto un'ulteriore domanda che forse in qualche maniera qui è la domanda che forse ci poniamo, visto che stiamo ragionando su quelle che sono i futuri. Siamo o non siamo europei nella terza missione? Aggiungevo sostanzialmente quest'altra dimensione per chiederci in qualche maniera se riusciamo a essere competitivi anche nella terza missione con le università con cui ci vogliamo confrontare. Che cosa vuol dire essere europei nella terza missione? Vuol dire fare un'analisi se abbiamo le competenze per rispondere a una serie di domande. Esce un tender internazionale. Siamo in grado di partecipare a un tender internazionale con le competenze che noi abbiamo oggi? Ci chiamano per costruire una domanda di finanziamento in un mese, quindi non in un anno, in un mese. Riusciamo ad avere una risposta, una domanda, un fascicolo, un dossier competitivo per una richiesta di finanziamento di questo? Con dei tempi quindi contingentati. Dobbiamo montare un progetto che vada al di là di quelle che sono le competenze della singola disciplina che è caratterizzata tipicamente dai nostri dipartimenti. Un progetto che quindi vada al di là delle discipline e che magari abbia anche alcuni temi che sono fuori da quello che è il perimetro tipico della ricerca. Pensate alla responsabilità sociale, la ricaduta sul territorio, l'impatto. Oggi tutto ha bisogno di una valutazione di quello che è l'impatto. Siamo in grado di valutare un progetto imprenditoriale, non da un punto di vista della bellezza della mia scoperta, dei miei figli. I miei figli sono sicuramente i più belli di tutti, non c'è dubbio. Ma da quanto questo progetto riesce poi ad essere sul mercato, ad avere le gambe per camminare, di che cosa ha bisogno per gestire una campagna di crowdfunding o una trattativa anche un po' agguerrita con dei venture capital? Se le risposte a queste domande è sì, direi che uno, siamo un'università europea, due, non abbiamo bisogno di una fondazione universitaria. Se le risposte di alcune di queste domande invece è forse no, allora abbiamo ancora un gap verso un'università europea e allora abbiamo bisogno di strumenti che probabilmente non tutti sono interni alle nostre università. Quindi io la vedo molto semplice in qualche maniera il problema. Allora il Politecnico 15 anni fa ha cominciato una trasformazione. Abbiamo anche i responsabili in sala, quindi insomma dove siamo arrivati è anche colpa del professor De Manio e del professor Baglio, che adesso si nascondono ma ci sono, che hanno avviato una trasformazione. Hanno avviato una trasformazione perché forse a quelle domande formulate così o formulate in modo diverso non è importante, si sono date una risposta che era no. Non avevamo le competenze per rispondere a tutte quelle domande. E quindi in questi 14 anni la Fondazione Politecnico Milano è diventata parte indispensabile di questa trasformazione e parte indispensabile di un qualche cosa che va al di là dell'università. Che io chiamo sistema Politecnico nel senso che alla fine faccio anche fatica a capire dove sono i confini dell'uno e dell'altro. Perché bisogna avere competenze, professionalità e strumenti necessari per rispondere. Naturalmente la nascita di una fondazione ha dei rischi. Il rischio, e tutti siamo abituati a valutare, soprattutto per chi proviene dal mondo dell'ingegneria, all'analisi dei rischi di qualunque decisione che prende, il rischio è che tutto si riduca a una competizione interna. Cioè di mettere una dimensione parallela a quelle che in qualche maniera ci sono già e che alla fine si crei una sorta di competizione tra i dipartimenti e la fondazione, tra il corso di studi e la fondazione, tra le scuole e le facoltà. Naturalmente i rischi devono essere evidenziati perché solo attraverso un'analisi dei rischi seria si possono andare a identificare quelle che sono le azioni di mitigazione per non cadere in quei rischi. Le azioni di mitigazione è un forte coordinamento. Cioè non ce n'è altre, nel senso che bisogna avere il coraggio di dare autonomia, perché se non si dà autonomia non si corre, ma nello stesso tempo di fare una telefonata in più che una telefonata in meno. Cioè in qualche maniera di disegnare una missione congiunta del sistema politecnico andando a prendere tutti quelli che sono gli strumenti del sistema universitario, tutti quelli che sono gli strumenti che in qualche maniera possono essere utili. Ed è quello che stiamo facendo in tre direzioni. La prima sicuramente è i rapporti con le imprese e le istituzioni. Anche qui spesso si è cercato di avere una definizione chiara. Allora la fondazione fa i rapporti con le imprese e il politecnico invece fa i rapporti con i progetti europei. Allora io non sono molto convinto, è chiaro che le definizioni chiare ci aiutano, perché almeno sappiamo esattamente dove dobbiamo collocare. Il problema è che il mondo che ci circonda non sta aspettando le nostre definizioni, non pende dalle nostre labbra dicendo che il politecnico ha deciso che le imprese le cura la fondazione politecnica. No, non succede questo. Ci sono dei partner che preferiscono lavorare con l'Ateneo, preferiscono lavorare con la fondazione. Perché? Perché hanno delle esigenze diverse e quindi il meccanismo deve essere quello esattamente di essere visti come un unico sistema che mette strumenti adeguati al servizio del rapporto. Naturalmente abbiamo bisogno sicuramente di professionalità e di competenze per quello che si chiama la brevettazione, la valorizzazione dei risultati. E oggi in molte sfide, in molti progetti di cooperazione e responsabilità sociale nazionali, ma direi forse ancora di più internazionali, servono delle competenze che in qualche maniera l'Ateneo non aveva. E su queste tre direzioni abbiamo un po' lavorato. Abbiamo lavorato, dicevo, con le imprese per gestire progetti complessi che andavano al di là del ho questo problema tecnico, facciamo un bel contratto di ricerca, facciamo sei mesi di lavoro, otto mesi di lavoro, gestiamo la proprietà intellettuale e la chiudiamo lì. Ecco oggi qualche volta il problema che ci viene posto è di una dimensione e di una complessità tale per cui quel tipo di gestione non è più sufficiente. Abbiamo bisogno di professionisti a fianco che costruiscano in qualche maniera il progetto, non basta più la competenza disciplinare per dare la risposta. E in questo caso effettivamente ci siamo trovati che avendo queste professionalità siamo riusciti a affrontare ed aggredire il mercato con maggiore determinazione. Faccio un paio di esempi. Qualche anno fa serviva una piattaforma per ridisegnare alcuni temi strategici, l'alta velocità in Italia, l'energia, che erano delle piattaforme che non avevano un'unica dimensione, un unico contraente, ma c'era o un grande progetto nazionale, l'alta velocità, oppure andare a vedere come il mondo dell'energia si stava trasformando. Allora lì bisognava gestire un tavolo che aveva diversi attori. Nel caso dell'alta velocità avevamo dall'impresa ferroviaria al gestore della rete, a chi avrebbe poi partecipato alle gare per l'alta velocità, capite la delicatezza anche del tavolo. Eppure è vivo da oltre dieci anni ed è diventato un punto di riferimento per la ricerca nel settore. Fa ricerca la fondazione? Certo che no, naturalmente la fondazione gestisce questo tavolo, gestisce queste complessità e poi si appoggia alle competenze dei dipartimenti, dell'Ateneo e direi anche non solo, perché alcune volte si dobbiamo andare a cercare competenze anche fuori dall'Ateneo per questo. Abbiamo sicuramente superato il principio che la brevettazione, cioè il realizzare un brevetto, è il punto di arrivo della valorizzazione della nostra ricerca. Qualche anno fa si diceva, ma smettetela di pubblicare, fate il brevetto. Come se fosse, basta, fatto il brevetto, a questo punto mi tolgo la giacca, ho finito il mio lavoro. Ecco, questo naturalmente sappiamo che non è più così, è un passaggio, anzi forse è un inizio più che una fine e io prima di questo incarico avevo la delega del professorazione al trasferimento tecnologico, alla valorizzazione della ricerca e quello che ho fatto, ho detto al rettore di allora, beh, bisogna mettere tutto insieme perché è tutta una filiera, primo, secondo, dobbiamo togliere i professori da questa filiera perché se vogliamo valorizzare veramente la ricerca non è compito del docente universitario, non è capace il docente universitario, non è il suo mestiere, ci vogliono dei professionisti, ci vogliono dei professionisti che valutino un brevetto, che lo valutino non per la sua valore scientifico, ma per il suo valore economico, per la sua capacità di entrare nel mercato, per la sua capacità poi di diventare un prodotto e qualche volta anche una società, una start-up, e quindi abbiamo ridisegnato insieme tutta la filiera dal trasferimento tecnologico fino al nostro incubatore. Una parte è Ateneo, una parte è alla Fondazione Politecnica, ma assolutamente con una filiera che se voi andate a analizzare non vi accorgete quando c'è un confine e quando c'è un altro. Questa possibilità ci ha dato oggi degli strumenti. Lunedì scorso ero in Cina, abbiamo firmato con TwoSolding, TwoSolding è l'incubatore della Cingua, la Cingua è l'MIT cinese, è una delle prime dieci università al mondo, è un incubatore che ha due numeri, ha 5.000 start-up di cui sei al Nasdaq, quindi in qualche maniera sono quei numeri in cui è il tipico tavolo in cui non devi raccontare i tuoi numeri, perché naturalmente se no abbassano lo sguardo, e quindi sperare che non li abbiano saputi. Abbiamo fatto questo accordo congiunto, verranno e hanno già realizzato, individuato degli spazi, perché avranno una presenza vicino al nostro incubatore, vicino a quello che stiamo costruendo come un distretto. Sono in ritardo oggi perché riteniamo che sul tema dell'imprenditorialità serva massa critica, serva dare al sistema dei punti di riferimento e quindi insieme a Bocconi oggi abbiamo detto che mettiamo a sistema le nostre due competenze con due asset, una comunità unica, cioè il nostro studente e il loro studente potrà liberamente partecipare alla carta dei servizi unica, che quindi in qualche maniera metteremo a sistema le carte dei servizi di PoliHub che potranno essere offerte non soltanto agli studenti del Politecnico ma anche agli studenti di Bocconi. Perché abbiamo bisogno di massa critica e di apertura internazionale, perché sono le due direzioni su cui in qualche maniera in questo lavoro possiamo andare a competere. Dicevo, abbiamo un programma che abbiamo chiamato PoliSocial qualche anno fa, nel senso che riteniamo che oggi il Politecnico si può permettere anche di dire che la terza missione è qualcosa che va oltre i rapporti con le imprese, nel senso che nel nostro Ateneo l'impresa è talmente all'interno del nostro DNA che non ha bisogno, forse è già dentro nelle prime due missioni, visto che siamo stati fondati un po' anche per questo. Quindi abbiamo ridisegnato un po' la responsabilità sociale come un po' il driver della nostra terza missione, abbiamo focalizzato alcune, stiamo focalizzando alcune delle nostre esperienze proprio in questa direzione, cito una all'alta scuola Politecnico a cui stiamo chiedendo un po' di supporto a questo, ma queste tematiche necessitano di competenze che di nuovo non sempre si trovano nel corpo docente o nel personale tecnico e amministrativo di una università. E su questa direi è un po' la terza direzione su cui andiamo a lavorare. Anche qui sono le uniche, no, sono quelle che in qualche maniera abbiamo visto nel nostro sistema Politecnico, quindi non esiste una lettura univoca della terza missione, non esiste un compito univoco della fondazione, a mio modo di vedere. Deve essere la complementarietà del sistema e dell'università a cui si avvicina. I numeri sono promettenti, mi ero ripromesso di non darvene nessuno, però devo dire che i numeri semplicemente continuano a aumentare il numero di progetti che in qualche maniera sono sviluppati attraverso la fondazione con una capacità di finanziamento importante, perché oggi siamo quasi a 60 milioni di euro, ma non per il Politecnico. E questo prima lo si capisce, secondo me, prima la fondazione chiaramente è il vero supporto, è il vero elemento che permette al sistema di crescere, nel senso che la fetta dedicata al Politecnico è semplice, solo, dico solo perché si può fare di più, ma non aumentando la percentuale, aumentando la torta complessiva, il 19%, perché è una realtà che è a servizio delle imprese, a servizio della pubblica amministrazione, a servizio anche parzialmente di se stessa. Con un incubatore, anche qui in crescita, oggi raccogliamo dal mondo Politecnico oltre 1.100 idee. Cosa vuol dire dal mondo Politecnico? Che studenti, ricercatori, docenti possono partecipare a tutta una serie di iniziative che gli permette di far emergere, liberare energie positive da quelle che sono la loro attività di tutti i giorni per proporre delle idee. Queste idee vengono prese in carico e vengono prese in carico attraverso tutta la filiera dell'ufficio del trasferimento tecnologico fino a PoliHub per generare, oggi abbiamo incubate più di 100 aziende con un fatturato di circa 17 milioni di euro e 500 dipendenti. Quindi, naturalmente siamo partiti da delle domande a cui la mia risposta era no e questi 14 anni, secondo me, hanno cominciato a dare delle risposte sì se il perimetro lo allargo alla Fondazione e non solo al Politecnico. Però si apre oggi una tavola rotonda, un momento di confronto per cui bisogna in qualche maniera capire se i prossimi 15 anni va bene ancora così, oppure dobbiamo fare delle riflessioni. Nel senso che, bene, possiamo dichiarare che demandiamo la terza missione qualunque essa sia e comunque sia declinata dai singoli Atenei alla Fondazione, lo scriviamo e quindi continueranno a migliorare questi numeri, continueranno a crescere questi 60 milioni di finanziamento, siamo soddisfatti. Ma possiamo chiedere ancora qualcosa di più. Nel senso che oggi la Fondazione può anche essere uno strumento per pensare a quelle trasformazioni un po' più radicali che l'Ateneo non riesce a fare. Nel senso che, come sempre, le migliori idee non arrivano dall'interno perché l'interno è un po' bloccato da un day by day in qualche maniera che è pressante oppure da una politica interna che spesso non ci costringe a fare delle scelte per mantenere un equilibrio e un'armonia. Ecco, secondo me sicuramente c'è un tema di terza missione, di innovazione, ma altrettanto c'è un tema di provare ad avere uno strumento che sia un po' io dico una spina nel fianco nell'Ateneo, nel senso positivo del termine, che stimoli l'Ateneo a reagire con anche delle trasformazioni non incrementali ma radicali. Queste sono le domande naturalmente che lascio a questa giornata e a cui non ho risposte ma spero di acquisirle pian pianino nell'arco delle prossime ore. Grazie. Grazie. Grazie.